www.redigio.it e la storia continua Una vita spendita a barcame e nastra i telecomandi Volevi cambiare canale e che partì il condizionatore e ci mi ho cominciato a pensare che in l'acqua che fossero quei demoni elettromagnetici Buon di inviare o di smorzare per il piacere su di lui e l'autodomestiche e apparecchie tv Niente di questo Mi avevi domani a sbagliare il telecomando Volevi passare entro il canale 5 e schisciavi me un matto il tasto di far inviare il condizionatore Queste le inevitabili in due telecomande aumentano di partì sparse fra le tavole, i divani, i mobiletti, i cifon Fino a quei anni fa il telecomando era unico per segnal dei comandi della famiglia E il scetter del cap, il bastone del potere, senza limite, var a dir come quel che non aveva utente di campagna del vocente Era stai ciavo della dispensa E sul tavolo o in sol'ottomana il telecomando veniva messa a rente al regio che poteva dispone come voleva Amavi e lasciori disposti a lasciare in mano alla mia tutta l'andamento della calma O i societi in materia di vesti, mangiare e vacanze E facevano varere l'autorità che competeva, più o meno spottica, in sui programmi della televisione Ma questa è la domanda per l'istoria Amavi presto in crisi che il modello ecco il moltiplicato di televisione Già ora è venuta oltre il secondo apparecchio, in cucina o in stanza di letto La crea è prima rotta da quel sistema di potere E quando anche il film conquistò il diritto al proprio televisore, che crurato scosso E il potere tv del regio le sparì, come anche l'unione familiare sparsa in sei vari apparecchi In di diverse istanze a guardare il programma differente All'era mica finita Ai due o tre telecomanda, a cominciare ad aggiuntarsi quei dei videoregistratori e dei compressi E quando il videoregistratori e dei videoregistratori e dei videoregistratori Con il suo telecomanda le restavano chiusi al suo posto Come lettore di vecchi cassetti e come strumento di registrazione di programma tv Ma a fare compagnia, intratante, che arriva il decoder di rete satellitale o digitale Con il suo regolare comando a distanza Per l'estate alla volta dei condizionatori E il numero di comandosi a distanza è aumentato a molti Tu sai, tanti si possono comandare anche gli apparelli, i lampadari, i ventilatori, i suffitti E tutti si sommeillano di fare spaventi E altrettanto inutili se si punta contro l'apparecchio sbagliato Ogni tentativa di mesciare e destinare senza altro affari E anche la sua sostituzione è un'impresa mica da poco Quando un telecomanda si scepa È praticamente impossibile trovare il stesso modello Si deve ripiegare sui modelli universali Più o meno dotare di funzioni Che saltano un po' di chi e di là Fassassi in due sottotinte di gomma E il universale vantarà secondo la marca del televisor Attenzione però, spiega il gentil com'è del negozio di l'altro domestico I codici di identificazione della marca E riferì al modello abbastanza recente Se il televisor è molto vecchia Il ricambio universale serve giusto Per sostituire le telecomande vecchie Che ormai ne fabbricano più E l'enchi Al delà dei scrupoli del commercio E all'elenco dei telecomandi domestiche Si può attaccare anche l'ultimo rivale E lo sostituire www.redigio.it E la storia continua